Capitolo 39 Il treno era in ritardo e il lungo crepuscolo inondava la campagna quando Rossella scese alla stazione di Gionesboro. Pochi lumi ardevano nelle botteghe e nelle case rimaste nel villaggio. Qua e là, vaste zone di terreno fra le case che fiancheggiavano la strada principale mostravano dove erano state demolite o incendiate altre abitazioni. Pochi cavalli da sella e pariglie di muli erano legati alla staccionata di legno davanti al negozio di Bullard. La strada rossa e polverosa era deserta e i soli segni di vita erano poche voci e risate di ubriachi che giungevano da un saloon in fondo alla strada. La stazione non era stata ricostruita dopo che l'avevano incendiata durante la battaglia. Al suo posto c'era soltanto una tettoia di legno, rossellando a sedere su uno dei barilotti vuoti che fungevano da sedili, guardandosi in giro in cerca di Will Bentin. Avrebbe dovuto trovarsi alla stazione per riceverla. Non poteva dubitare che lei avrebbe preso il primo treno, appena ricevuto il laconico messaggio che la informava della morte di Gerald. Era partita così in fretta che aveva messo nella sacca da viaggio soltanto una camicia da notte e uno spazzolino per i denti. Nemmeno un cambio completo di biancheria. Si sentiva a disagio nella stretta veste nera che si era fatta prestare dalla signora Mead, non avendo avuto il tempo di farsi fare un abito da lutto. La signora Mead era molto magra adesso, inoltre la gravidanza di Rossella rendeva l'abito ancora più stretto. Malgrado il dolore che provava per la morte di Gerald, non dimenticava il proprio aspetto e guardava con disgusto il suo corpo ingrossato. La sua figura snella non esisteva più, il volto e le caviglie erano gonfi. Finora non si era molto preoccupata del suo fisico, ma sapendo che avrebbe visto Ashley di lì a un'ora, ci pensava. E si sentiva assai turbata di dovergli apparire davanti portando in grembo il figlio di un altro. Le sembrava che quel figlio fosse una prova di infedeltà al suo amore per lui. Ma soprattutto le dispiaceva che lui dovesse vederla con la vita ingrossata e il passo pesante, cosa che non poteva evitare. Batte il piede con impazienza. Will sarebbe dovuto venire a prenderla. Senza dubbio poteva andare da Bullard e chiedere di lui, o qualora le dicessero che non era potuto venire, a sentire se c'era qualcun altro che potesse accompagnarla a Tara. Ma le seccava a entrare nella bottega. Era sabato e probabilmente ci sarebbe stata una metà degli uomini della contea. Non le piaceva l'idea di farsi vedere, nel suo stato, con quell'abito stretto che accentuava la sua deformità. E non aveva voglia di sentire le condoglianze per la morte di Gerald. Non aveva bisogno di comprensione. sentiva che se qualcuno le avesse nominato suo padre si sarebbe messa a piangere. E non voleva. Sapeva che se avesse cominciato avrebbe pianto come quella volta contro la criniera del cavallo, durante la tremenda notte della caduta di Atlanta, quando Rhett l'aveva lasciata sulla strada buia. Terribili lacrime le spezzavano il cuore e non si potevano fermare. No, non voleva piangere. Sentì nuovamente il nodo alla gola, come tante volte da quando aveva ricevuto la notizia. Ma piangere non serviva a nulla, soltanto a indebolirla. Perché né Melania, né Will, né le ragazze le avevano scritto che Gerald era ammalato. Sarebbe corsa a curarlo. Avrebbe condotto un medico da Atlanta. Che sciocchi tutti quanti! Possibile che senza di lei non sapessero far nulla. Non poteva essere contemporaneamente in due luoghi e ad Atlanta faceva del suo meglio per aiutare tutti loro. Si agitò sul sedile, diventando nervosa nel vedere che Will non arrivava. Dov'era? In quel momento sentì lo scricchiolio del pietrisco delle rotaie dietro di lei sotto un passo pesante, e voltandosi vide Alex Fontaine, che attraversava i binari e si avviava verso un carro, portando sulle spalle un sacco d'avena. Oddio, siete proprio voi Rossella? Esclamò lui, lasciando cadere il sacco e correndo a stringerle la mano. Sul suo viso piccolo e bruno si leggeva uno schietto piacere. Sono felice di vedervi. Ho incontrato Will dal maniscalco, faceva ferrare il cavallo. Il treno era in ritardo, quindi ha creduto di avere abbastanza tempo. Volete che corra a cercarlo? Sì, Alex, per favore. E malgrado il suo dolore, sorrise. Era così piacevole rivedere un volto della contea. Oh, ehm, Rossella, cominciò Alex goffamente, tenendole ancora la mano. Sono tanto addolorato per vostro padre. Grazie, rispose Rossella, e le dispiacquero le parole di lui perché rievocavano il volto florido e la voce tonante di Gerald. Se può essere un conforto per voi, vi dirò, Rossella, che tutti qui eravamo fieri di lui. Lui, sì, per noi è morto come un soldato per la buona causa. Che diamine voleva dire? Un soldato? Qualcuno lo aveva ucciso. Si era trovato in una rissa. Ma non volle ascoltare altro. Avrebbe pianto se avesse parlato di lui, e non voleva piangere finché non fosse stata nel viottolo con Will, in campagna, dove nessuno poteva vederla. Will era come un fratello. Alex, non voglio parlarne, replicò in fretta. Non vi do torto, Rossella, riprese Alex, mentre il suo volto si accendeva di collera. Se fosse mia sorella... Sentite, Rossella, non ho mai detto una parola contro una donna, ma sono convinto che Suzelle meriterebbe una buona frustata. Ma che sciocchezze stava dicendo? Che c'entrava Suzelle? Mi dispiace dirvi che tutti la pensano allo stesso modo sul suo conto. Will è il solo che prende le sue difese, e anche Miss Melania, ma lei è una santa e non vede il male in nessuno. Ho detto che non desidero parlarne, ripetè Rossella freddamente, ma Alex non parve offeso. Sembrò comprenderla, e questo la irritò. Non voleva sentire sparlare della propria famiglia da un estraneo e non voleva che lui si accorgesse della sua ignoranza intorno all'accaduto. Perché Will non le aveva scritto ogni cosa? Le spiacque che Alex la guardasse con tanta insistenza. Certo si era accorto delle sue condizioni e questo la imbarazzava. Invece lui, scrutandola nella scarsa luce crepuscolare, si stupiva di vederla così mutata, quasi irriconoscibile. Era forse perché si trovava in stato interessante? O il dolore per la morte del vecchio papà di cui era stata la preferita? Ma no, il mutamento era profondo. Veramente aveva un aspetto migliore di quando l'aveva vista per l'ultima volta. Almeno ora pareva che mangiasse regolarmente. E i suoi occhi non avevano più quell'espressione di animale inseguito. Piuttosto erano duri e imperiosi, e in lei c'era un'aria di autorità e di sicurezza, anche quando sorrideva. Indubbiamente era una bella donna, ma non aveva più quella dolcezza un po' birichina che la rendeva tanto attraente e quel modo lusinghevole di guardare gli uomini che li faceva impettire tutti quanti. D'altronde, non erano tutti cambiati. Alex guardò i propri abiti rozzi e il suo volto riprese la consueta espressione di amarezza. A volte, quando non riusciva ad addormentarsi, si chiedeva come sarebbe stato possibile far fare l'operazione a sua madre. Come si sarebbe fatto per dare un'educazione al figlio del defunto Joe? Come poteva procurarsi il denaro per un'altra mula? E allora rimpiangeva che la guerra fosse finita e che non durasse per sempre. Allora non comprendevano la loro fortuna. Nell'esercito c'era sempre da mangiare, sia pure pane di gran turco, sempre qualcuno che dava gli ordini. Così non si aveva quella terribile responsabilità, dei molteplici problemi da risolvere. Nessun'altra preoccupazione che quella di essere uccisi. E poi c'era Dimity Monroe. Alex desiderava sposarla e sapeva che non era possibile avendo già da pensare al mantenimento di tante persone. La amava da tanto tempo e ora le sue guance rosa cominciavano a sfiorire e i suoi occhi ad essere meno vivaci. Se almeno Tony non fosse fuggito in Texas. Un altro uomo che aiutasse avrebbe risolto la situazione. Invece suo fratello, così simpatico e vivace, errava chissà dove, nell'Ovest, senza un quattrino. Sì, tutti erano cambiati. Sospirò profondamente. Non vi ho ringraziata per ciò che voi e Franco avete fatto per Tony. Disse poi. Siete stati voi altri, non è vero che lo avete aiutato a fuggire? Ho sentito dire che è arrivato sano e salvo in Texas. Non ho avuto il coraggio di scrivervi per domandarvi «Ma gli avete prestato del denaro? Vorrei restituirvelo». Per carità, Alex, taccete. Non parliamo di questo adesso. Per una volta tanto non le importava del denaro. Alex rimase in silenzio per un istante. «Vado a cercare Will», aggiunse poi. «E domani verremo tutti al funerale». Mentre raccoglieva il sacco di avena e si girava per andarsene, un carretto sconquassato svoltò da una strada laterale e venne a fermarsi cigolando davanti a loro. Will gridò prima di scendere. «Scusate il ritardo, Rossella». Scese goffamente, le si avvicinò zoppicando e si curvò a baciarla sulle guance. Non l'aveva mai baciata e non aveva mai mancato di far precedere il suo nome da Miss. Quel fatto la stupì, ma al contempo le fece piacere, perché le diede un senso di calore. Lui la aiutò con molta attenzione a salire sul carretto con il quale era fuggita da Atlanta. Come aveva potuto durare tanto? Will doveva tenerlo con molta cura. Il ricordo di quella notte le fece male. A costo di fare a meno delle scarpe e di economizzare sul cibo, avrebbe acquistato un nuovo carro per Tara, facendo bruciare quello. Dapprima Will non parlò e Rossella gliene fu grata. Gettò il vecchio cappello di paglia nel retro del carro, fece schioccare la lingua per mettere in moto il cavallo e partirono. Will era sempre lo stesso, magro, dinoccolato, con i capelli rossicci, gli occhi miti, paziente come un animale da tiro. Lasciarono il villaggio e per la strada rossa si avviarono verso Tara. Un pallido rosa indugiava ancora nel cielo. Grossi cirri fioccosi avevano riflessi d'oro e di verde chiaro. La pace del crepuscolo campestre scendeva sopra di loro rasserenante come una preghiera. Come aveva potuto resistere tanti mesi? Pensò Rossella. Lontana dal fresco profumo dei campi, dalla terra arata, dalla dolcezza delle notti d'estate. Il terreno umido aveva un odore così piacevole, così familiare, che lei provò il desiderio di scendere a raccoglierne una manciata. Il caprifoglio, che si arrampicava sui muricciuoli purpurei ai due lati della strada, rivestendoli di un drappeggio verde, emanava una fragranza acuta, come sempre, dopo la pioggia, ed era il profumo più soave del mondo. Sulle loro teste uno stormo di rondini roteò rapidamente. Di quando in quando un coniglio spaventato si fermava per un attimo in mezzo alla strada, con la bianca coda ritta come un piumino per la cipria. Lei vide con piacere che il cotone cresceva bene. Gli arbusti verdi si drizzavano vigorosi sulla terra vermiglia. Com'era bello tutto ciò! Come mai era rimasta assente tanto tempo! Rossella, prima di parlarvi di mister O'Hara, desidero dirvi tutto prima che arriviate a casa. Devo chiedervi la vostra opinione su una faccenda. Ormai vi considero come il capo della famiglia. Di che si tratta, Will? Lui volse per un attimo su di lei il suo sguardo dolce e sereno. Vorrei la vostra approvazione per il mio matrimonio con Susel. Rossella si afferrò al sedile, così stupita che per poco non cade all'indietro. Sposare Susel! Chi poteva avere quell'idea se non Franco? Dopo che glielo aveva portato via Rossella era convinta che sua sorella sarebbe rimasta zitella. Dio mio, Will! Devo dedurre che non vi opponete? Oppormi? No, ma mi avete tolto il respiro! Sposare Susel! Ho sempre creduto che vi interessaste a Caroline! Will non distolse gli occhi dal cavallo. Il suo profilo non mutò, ma Rossella parve che sospirasse impercettibilmente. Forse era così. E non vi vuole? Non glielo ho mai chiesto. Ma è una sciocchezza! Domandateglielo! È molto migliore di Susel! Rossella, voi ignorate molte cose che sono successe a Tara. Non vi siete molto occupata di noi in questi ultimi mesi? Non mi sono occupata di voi! Rossella prese fuoco subito. Che cosa credete che sia rimasta a fare ad Atlanta? Immaginate che vada a spasso in tiro a quattro e frequenti le feste da ballo? Non vi ho mandato sempre il denaro? Non ho pagato le tasse e fatto aggiustare il tetto e comprato il nuovo aratro e le mule? Non ho! Non cominciate subito a infiammarvi! Ribatte lui imperturbabile. Se c'è qualcuno che sa ciò che avete fatto, quello sono io. E posso dire che il vostro è stato il lavoro di due uomini. Un po' raddolcita lo interrogò. E allora che volete dire? Avete ricostruito il tetto sulle nostre teste e riempito di viveri la dispensa, non lo nego. Ma non vi siete occupata di quello che poteva accadere nella mente dei diversi individui a Tara. Non vi biasimo, Rossella. Voi siete fatta così. Non vi siete mai interessata molto di quello che pensano le persone. Ma sto cercando di dirvi che se non ho mai chiesto la mano di Caroline è stato perché sapevo che era inutile. Lei è stata per me come una sorrellina ed è stata più schietta nei miei confronti che con chiunque altro. Ma non ha mai dimenticato quel ragazzo morto e non lo dimenticherà mai. Ed è meglio che sappiate subito la sua intenzione di entrare in un convento a Charleston. Volete scherzare? Sapevo che sareste rimasta sbalordita e volevo appunto pregarvi di non discutere con lei su questo, di non sgridarla e di non ridere di lei. Lasciatela andare. Non desidera altro, ha il cuore spezzato. Perbacco, tanta gente ha il cuore spezzato e non per questo si chiude in un convento. Guardate me, ho perso mio marito. Ma questo non vi ha spezzato il cuore? Will pronunciò queste parole con flemma, quindi si chinò a raccogliere una pagliuzza in fondo al carretto e la mise in bocca. Quell'osservazione gli diede un vantaggio su di lei. Come sempre, quando sentiva dire la verità, per quanto spiacevole, quel fondo di onestà che era in Rossella la costringeva a riconoscerla. Rimase a lungo senza parlare, cercando di abituarsi all'idea di vedere Caroline monaca. Promettetemi di non fare delle storie con lei. Va bene, prometto. Lo guardò con una nuova comprensione e una certa sorpresa. Will aveva amato Caroline e la amava ancora abbastanza da prendere le sue difese e cercare di facilitarle l'adempimento dei suoi desideri. Eppure voleva sposare Suzelle. E che cos'è questa faccenda di Suzelle? Non le volete bene che io sappia? Oh sì, in un certo senso. Suzelle non è cattiva come credete. Sono sicuro che andremo abbastanza d'accordo. Suzelle ha bisogno soltanto di avere un marito e dei bambini. Del resto questa è la cosa di cui tutte le donne hanno bisogno. Il carro sobalzò per alcuni minuti sulla strada piena di buche, senza che nessuno dei due parlasse. Rossella rifletteva. Doveva esserci qualcosa che non appariva, qualcosa di più profondo e importante, per indurre il pacato e mite Will a sposare una creatura scontenta e brontolona come Suzelle. Non mi avete detto la vera ragione, Will. Ho il diritto di conoscerla, se sono il capo della famiglia. È giusto, e spero che comprenderete. Io non posso lasciare Tara, Rossella. È come se fosse la mia casa, la sola casa che ho mai avuto. Voglio bene ad ogni pietra di Tara, dove ho lavorato come se fosse mia. E quando si comincia a lavorare per qualcosa, ci si affeziona ad essa. Capite? Lei comprese, e provò un impeto di affetto per lui, perché anche lui voleva bene a ciò che lei amava più di tutto. E ora che vostro padre non c'è più, e Caroline va in convento, resteremo soltanto io e Suzelle. Capirete che non potrei continuare a vivere a Tara senza sposare vostra sorella. Sapete bene come chiacchiera la gente. Ma... ma ci sono Melania ed Ashley? Al nome di Ashley lui si voltò a guardarla con i suoi occhi imperscrutabili. Ancora una volta lei ebbe la sensazione che Will sapesse, e comprendesse tutto di lei e di Ashley, senza biasimare né approvare. Se ne andranno fra breve. Se ne andranno? E dove? Tara è casa loro come è casa vostra. No, non è casa loro. E Ashley ha l'impressione di non guadagnare il suo mantenimento. Fa del suo meglio, ma non è nato per fare il coltivatore. Voi lo sapete, come lo so io. Se va a spaccar legna, c'è pericolo che si dia l'accetta sul piede, ed è incapace di fare un solco dritto con l'aratro. Ma non è colpa sua, non è il suo mestiere, ed è un tormento per lui vivere a Tara della carità di una donna, senza poter fare molto per ripagarla. Carità? Ha detto forse? No, mai una parola. Voi lo conoscete, ma io ne sono certo. Stanotte, mentre vegliavamo vostro padre, gli ho detto che avevo chiesto la mano di Suzelle, e che lei aveva detto di sì. Allora Ashley mi ha detto che questo era un gran sollievo per lui, perché capiva bene che, dopo la morte di Mr. O'Hara, lui e sua moglie sarebbero stati costretti a rimanere a Tara per non far chiacchierare la gente a proposito di me e di Suzelle. E mi ha detto che stava progettando di lasciare Tara per andare in cerca di lavoro. Lavoro? Che lavoro? E dove? Non so con precisione, ma mi ha detto che andrà a Nord. Ha un amico Yankee a New York, che gli ha scritto a proposito di non so che impiego in una banca. Oh no! Fu il grido che sfuggì a Rossella, e a quel grido Will le lanciò lo stesso sguardo di prima. Forse sarà meglio che vada al Nord. No, no, non credo. Il suo cervello lavorava febbrilmente. Ashley non doveva andare al Nord, altrimenti non lo avrebbe più visto. Anche se non lo vedeva da mesi, se non gli aveva mai più parlato dopo la scena del frutteto, non era passato giorno che non avesse pensato a lui, rallegrandosi che fosse sotto il suo tetto. E non aveva mai mandato un dollaro a Will senza pensare che anche quello sarebbe servito a rendere più piacevole la vita di Ashley. Certo, Ashley non valeva nulla nei lavori dei campi. Era nato per fare cose migliori, pensò con orgoglio. Era nato per dettare legge, vivere in una grande dimora, cavalcare bei cavalli, leggere libri di poesia e dire ai negri che cosa dovevano fare. Che non ci fossero più belle dimore, cavalli e negri, e restassero pochi libri, non cambiava le cose. Ashley non era nato per arare la terra e spaccare legna. Non c'era da meravigliarsi che desiderasse andarsene da Tara. Ma Rossella non poteva lasciarlo andare via dalla Georgia. Se fosse stato necessario, avrebbe pregato Franco di dargli un posto nel suo negozio, licenziando il commesso che ora aveva. Ma no, neanche quello era il posto di Ashley. Un Wilkes commesso di negozio. Mai. Eppure doveva esserci qualcosa. Ma sicuro, la sua segheria. Ma avrebbe accettato Ashley un'offerta da lei? Non gli sarebbe sembrata ancora una carità? Bisognava fargli credere che fosse un favore che lui faceva a Rossella. Bisognava licenziare Johnson e mettere Ashley nella vecchia segheria, lasciando Hug a gestire la nuova. Lei avrebbe spiegato ad Ashley che la salute malferma di Franco e il dover badare al negozio impedivano a suo marito di aiutarla. E avrebbe parlato della sua attuale condizione come di un altro motivo per il quale aveva bisogno del suo aiuto. Gli avrebbe fatto comprendere che di quell'aiuto non poteva fare a meno. E gli avrebbe offerto metà degli utili dello stabilimento. Pur di averlo vicino, pur di farlo sorridere, pur di carpire qualche volta un suo sguardo che le dicesse che le voleva ancora bene. Ma promisse a se stessa che non avrebbe mai più tentato di indurlo a parlare d'amore, mai più avrebbe cercato di fargli rinunciare a quello stupido onore che apprezzava più dell'amore. E doveva trovare il modo di farglielo comprendere, altrimenti avrebbe potuto rifiutare, per timore di un'altra scena terribile come l'ultima. Posso trovargli qualcosa da fare ad Atlanta? Disse. Questo è affar vostro e suo, rispose Will, e si rimise la pagliuzza in bocca. Ora, Rossella, devo chiedervi ancora qualcosa prima di parlarvi di vostro padre. Desidero che non rimproveriate, Suzelle. Quello che è fatto è fatto, e anche se la scorticaste viva non richiamereste in vita, mister O'Hara. Del resto, lei ha creduto onestamente di fare per il meglio. Volevo appunto chiedervi, che cos'è successo? Alex mi ha detto delle frasi confuse, accennandomi che bisognerebbe frustarla. Che ha fatto? In verità sono tutti irritati con lei. Tutti quelli che ho incontrato oggi a Gionesboro mi hanno giurato che la faranno a pezzi la prima volta che la vedranno. Ma sono sicuro che si calmeranno. Promettetemi che non le direte nulla. Non desidero che ci siano questioni stasera, con la salma di mister O'Hara nel salotto. Parla come se fosse già il padrone di Tara, pensò Rossella indignata. Poi ebbe la visione di Gerald morto, nel salotto, e cominciò a singhiozzare. Will le passò un braccio attorno alla vita, la strinse affettuosamente e non le disse nulla. Mentre il carro sobalzava nelle buche della strada, Rossella, con il capo appoggiato sulla spalla di Will, non ricordava più il Gerald degli ultimi due anni. Il vecchio smemorato che attendeva sempre una donna che non sarebbe tornata mai più. Rivedeva il vecchio pieno di vivacità, con la sua criniera d'argento, la sua rumorosa allegria, i suoi scherzi, la sua generosità. Ricordava che quando era bambina, lui le era sembrato l'uomo più meraviglioso del mondo. Quel papà impetuoso, che la portava in sella con sé quando saltava le siepi, la sculacciava quando era cattiva, gridava quando lei gridava, e la perdonava per farla tacere. E lo rivedeva quando tornava da Charleston o da Atlanta, carico di doni che non erano mai appropriati. E ricordava anche, con un debole sorriso fra le lacrime, quando tornava a casa ubriaco cantando a squarciagola delle canzoni irlandesi. E com'era avvilito l'indomani mattina davanti ad Elena. Ecco, ora l'aveva finalmente raggiunta. Perché non mi avete scritto che era ammalato? Sarei venuta subito? Non è stato ammalato neanche un minuto. Tenete, cara, prendete il mio fazzoletto, ora vi dirò tutto. Lei si soffiò il naso nel fazzoletto di lui, neanche un fazzolettino aveva portato con sé, e poi si rannicchiò nel cavo del suo braccio. Com'era buono Will, è sempre così calmo. È andata così. Voi ci avete mandato il denaro, ed io ed Ashley abbiamo pagato le tasse, comprato le mule, le sementi e poi qualche maiale e dei polli. Mrs. Melly si occupa delle galline e lo fa molto bene. È una brava donna, Mrs. Melly. Insomma, dopo aver comprato quello che occorreva, era rimasto ben poco. Ma nessuno di noi si lamentava, eccetto Suzelle. Miss Melania e Caroline stavano in casa e portavano i loro abiti vecchi con orgoglio. Ma voi conoscete Suzelle? Non si è mai abituata alle privazioni. Si seccava moltissimo di essere così malvestita quando io la conducevo a Jonesboro o a Fayetteville, specialmente perché alcune di quelle signor... donne dei Carpetbuggers andavano in giro tutte in fronzoli. E le mogli di quei maledetti Ienchi. Insomma, per le signore della Contea è un punto d'onore indossare quanto hanno di peggio, ma per Suzelle no. E si era anche messa in mente di avere un cavallo e una carrozza, dicendo che anche voi ne avete una. Non è una carrozza, è un vecchio calessino, ribatte Rossella sdegnata. Non ha importanza, tanto vale che io vi dica anche che Suzelle non ha mai digerito il fatto che voi avete sposato Franco. E non le posso dare tutti i torti. Dovete convenire che non è stato un bello scherzo da fare ad una sorella. Rossella si sollevò dalla sua spalla, fu ribonda come un serpente pronto a scattare. Un bello scherzo? Vi prego di moderare i termini, Will Bentin. Potevo forse evitare che mi preferisse a lei. Voi siete una ragazza intelligente, Rossella, e sono sicuro che avreste potuto evitarlo. Le ragazze ci riescono sempre se vogliono. E invece dovete averlo lusingato. Ed era lo spasimante di Suzelle. Una lettera scritta una settimana prima che voi giungeste ad Atlanta era tutta zucchero e miele e diceva che pensava di sposarla appena avesse messo insieme un po' di denaro. Suzelle mi ha fatto leggere la lettera. Rossella tacque, perché sapeva che lui diceva la verità. Non si sarebbe mai aspettata di essere giudicata da Will. E la menzogna detta a Franco non le era mai pesata molto sulla coscienza. Se una ragazza non sapeva trattenere un corteggiatore, voleva dire che meritava di perderlo. Non dite cattiverie, Will. Credete che se Suzelle lo avesse sposato avrebbe speso un centesimo per Tara o per uno di noi? No, non credo che avremmo mai visto un soldo del vecchio Franco. Ma il vostro è stato lo stesso un brutto scherzo. E se volete dire che il fine giustifica i mezzi, la cosa non mi riguarda. Insomma, Suzelle dopo di allora è diventata fastidiosa e pungente come una vespa. Non credo che gli volesse bene, ma era stata ferita nella sua vanità. E poi la tormentava il fatto che voi avevate abiti e carrozza e vivevate ad Atlanta, mentre lei era sepolta a Tara. E a lei piace andare a feste e ricevimenti. Le donne sono così. Per farla breve, un mese fa l'ho accompagnata a Gionesboro e l'ho lasciata andare a far delle visite mentre io mi occupavo di affari. Quando siamo tornati a casa era silenziosa, ma ho notato che era così eccitata che stava per scoppiare. Credevo che avesse sentito qualche pettegolezzo interessante e non ci ho fatto molta attenzione. Per circa una settimana l'ho vista girare per casa sempre eccitata, ma senza dir nulla. Poi è andata a far visita a Miss Catina Calvert. Oh, se la vedeste, Rossella! Povera figliola! Era meglio che morisse piuttosto che sposare quel pusillanime Yankee, quel Lilton. Sapevate che lui aveva ipotecato la casa e che ora l'ha perduta e devono andar via? Non lo so e non mi importa saperlo. Voglio sapere del papà. Ora ci arrivo, continuò Will con pazienza. Quando è tornata a casa, ha detto che tutti quanti avevamo mal giudicato Hilton. Ha detto che era una persona per bene, ma tutti noi ne abbiamo riso. Allora ha cominciato a portare a spasso vostro padre nel pomeriggio e molte volte, tornando a casa, li vedevo seduti sul muricciuolo attorno al cimitero e vedevo che gli parlava con vivacità agitando le mani. E lui la guardava perplesso scuotendo la testa. Voi sapete come era ridotto Rossella. Sempre più stordito, senza più sapere dov'era e chi erano le persone attorno a lui. Una volta l'ho vista che indicava la tomba di vostra madre e mister O'Hara ha cominciato a piangere. E quando è tornata a casa, tutta eccitata e felice, io le ho parlato molto aspramente. Che cosa vi viene in mente? Le ho detto. Di tormentare il vostro povero papà parlandogli della mamma. Non si rende quasi mai conto che è morta e ora voi lo costringete a farlo. Lei scosse sprezzante la testa, rise e disse, pensate agli affari vostri, un giorno sarete tutti felici di quello che sto facendo. Quella sera Mrs. Melly mi ha detto che Suzelle le aveva raccontato il suo progetto, ma lei non credeva che avesse parlato sul serio e non ne aveva accennato a nessuno di noi perché la sola idea la sconvolgeva. Ma che idea? Volete spiegarmi una buona volta? A momenti siamo a casa e io voglio sapere. Sto cercando di dirvelo e siamo così vicini che sarà meglio fermarci finché non ho finito. Tirò le redini e il cavallo si fermò. Erano accanto alla siepe di Serenella che segnava il limite della proprietà dei Macintosh. Attraverso gli alberi Rossella scorgeva i grandi camini spettrali ancora ritti sulle rovine silenziose. Avrebbe preferito che Will avesse scelto un altro luogo per fare sosta. Insomma, la sua idea era questa. Far pagare agli Yankee il cotone che avevano bruciato, la roba che avevano portato via e le barriere e le tettoie che avevano demolito. Agli Yankee! Non ne avete sentito parlare? Il governo Yankee indennizza tutti gli abitanti del sud simpatizzanti con l'Unione che hanno avuto danni nelle loro proprietà. Sì, l'ho sentito dire, ma noi che centriamo? Secondo Suzelle centriamo moltissimo. Il giorno che è andata a Jonesboro ha incontrato la signora Macintosh e mentre parlavano Suzelle ha notato che lei aveva un bel vestito e le ha chiesto come mai. Allora la Macintosh si è data molte arie, dicendo che suo marito aveva reclamato presso il governo federale perché era stata distrutta la proprietà di un leale simpatizzante per l'Unione, il quale non aveva mai dato aiuto alla Confederazione in alcun modo. Oh, non hanno mai dato niente a nessuno quegli scozzesi! Lo interruppe Rossella con violenza. Può darsi, io non li conosco. Ad ogni modo, il governo ha assegnato loro non so più quante migliaia di dollari. Una bella cifra. Questo ha impressionato Suzelle, la quale ci ha pensato su tutta la settimana, senza dirci nulla, perché sapeva che avremmo riso. Ma bisognava pure che parlasse con qualcuno. È stato allora che è andata da Miscatina e ha parlato con quel maledetto straccione di Hilton, il quale le ha messo in testa una quantità di altre idee. Le ha detto che vostro padre non era nato in questo paese, non aveva combattuto, non aveva avuto figli in guerra e non aveva mai ricoperto alcun ufficio pubblico sotto la Confederazione. E, dato tutto questo, si poteva affermare che Mister O'Hara era un simpatizzante dell'Unione. Le ha riempito la testa, così Suzelle ha cominciato a parlare con Mister O'Hara, il quale, ci scommetterei, non sapeva neanche che cosa sua figlia gli dicesse. E certamente lei faceva assegnamento su questo per indurlo a fare il giuramento di fedeltà senza che lui neppure se ne accorgesse. Papà a pronunciare il giuramento! Era così indebolito di mente che certamente lei ci contava. E nessuno di noi ha sospettato nulla di tutto questo. Vedevamo che stava combinando qualcosa, ma non avremmo mai supposto che Suzelle si sarebbe servita della vostra defunta mamma per rimproverargli di lasciare che le sue figlie fossero vestite di stracci, mentre poteva avere dagli Yankee 150.000 dollari. 150.000 dollari? Mormorò Rossella, sentendo diminuire il suo orrore per il giuramento. Quanto denaro! E per averlo bastava firmare un giuramento di fedeltà al governo degli Stati Uniti. Un giuramento che stabiliva che il firmatario aveva sempre subito il governo precedente senza dargli aiuto. 150.000 dollari. Per una piccola menzogna. Davvero non poteva biassimare Suzelle. E Alex aveva detto che si sarebbe dovuto frustarla. Erano pazzi tutti quanti. Quante cose farebbero tutti quei pazzi della contea? Che importava una piccola menzogna? Dopotutto, qualunque cosa si potesse togliere agli Yankee era denaro bene acquistato, in qualunque modo. Ieri, verso mezzogiorno, mentre Ashley ed io eravamo a sparcare legna, Suzelle ha preso questo carretto, ci ha caricato vostro padre ed è andata con lui in città senza dir nulla a nessuno. Mrs. Melly ha avuto un sospetto, ma sperando che Suzelle avrebbe cambiato idea non ci ha informato. Non credeva che Suzelle sarebbe stata capace. Oggi ho saputo cos'è successo. Quel fusillanime di Hilton pare che sia in buoni rapporti con gli altri repubblicani della città e Suzelle gli aveva promesso di dar loro una parte del denaro, non so quanto, se essi avessero acconsentito a riconoscere che Mr. O'Hara, da buon irlandese, era stato un leale simpatizzante per l'unione e che non era appartenuto all'esercito, eccetera eccetera. Vostro padre non doveva far altro che giurare e firmare la carta, che sarebbe poi stata mandata a Washington. La faccenda del giuramento è stata rapida, vostro padre non ha detto nulla e tutto è andato bene fino al momento di firmare. Allora Mr. O'Hara è parso tornare in sé per un istante e ha scrollato il capo. Non credo che sapesse di che si trattava, ma la cosa non gli piaceva. L'esitazione di lui irritò Suzelle dopo tutta la fatica che aveva fatto. Lo ha portato fuori dall'ufficio e ha camminato con lui su e giù per la strada, dicendogli che vostra madre gridava contro di lui dalla tomba perché lasciava soffrire le sue figlie mentre avrebbe potuto provvedere a loro. Mi hanno detto che vostro padre piangeva come un bambino, come sempre quando udiva il nome di Mrs. Elena. Tutti li hanno visti e Alex Fontaine si è avvicinato per chiedere che cos'era successo, ma Suzelle gli ha risposto male dicendogli di occuparsi dei fatti suoi. Così lui se n'è andato furibondo. Non so come le è venuta l'idea, ma so che nel pomeriggio ha preso una bottiglia di brandy, ha condotto Mr. O'Hara nell'ufficio e ha cominciato a farlo bere. Da un anno, Rossella, non abbiamo alcol a Tara, eccetto un po' di vino di more che fa Dilsey. Quindi vostro padre non c'era più abituato. In breve si è ubriacato, e dopo che Suzelle ha discusso e argomentato per un pezzo, finalmente ha consentito a firmare. Ma, mentre stava per mettere la penna sulla carta, Suzelle ha commesso un errore. Adesso, ha esclamato, gli slatteri e i Macintosh la finiranno di darsi delle arie di superiorità con noi? Dovete sapere che gli slatteri hanno fatto una richiesta di indennizzo molto elevata per quella catapecchia incendiata dagli Yankee, e il marito di Emma ha ottenuto il pagamento. Dunque mi hanno detto che all'udire quei nomi vostro padre si è raddrizzato, e l'ha guardata con occhio penetrante. Non era più smarrito, e le ha chiesto, gli slatteri e i Macintosh hanno firmato una carta come questa? Suzelle ha cominciato a dire di sì e di no, e a balbettare. E allora lui ha gridato ad alta voce, dimmi se quel maledetto orangista e quel maledetto straccione bianco hanno firmato una carta come questa. E allora Hilton, credendo di calmarlo, sì signore, e hanno avuto dei bei quattrini, come li avrete voi. Il vecchio ha emesso un ruggito come un leone. Alex Fontaine dice che lo ha sentito dal saloon dove si trovava. E poi ha urlato. E voi credete che Ohara, di Tara, voglia seguire il sudicio esempio di un maledetto straccione bianco? Ha strappato la carta in due pezzi, e l'ha gettata in faccia a Suzelle, strillando, tu non sei mia figlia. Ed è uscito dall'ufficio, prima che i presenti potessero riaversi dalla sorpresa. Alex racconta che l'ha visto scendere in strada come un toro infuriato. Sembrava di nuovo quello di una volta, e urlava e bestemmiava ad alta voce, benché fosse ubriaco fradicio. Davanti al saloon c'era il cavallo di Alex. Vostro padre gli è saltato in groppa in un batter d'occhio, ed è scomparso in una nuvola di polvere continuando a bestemmiare con quanto fiato aveva in gola. Verso il crepuscolo, Ashley ed io eravamo seduti in attesa, sui gradini del porticato, preoccupati di non vederlo tornare. Miss Melania, al piano di sopra, piangeva stesa sul letto. Non aveva voluto dirci nulla. A un tratto abbiamo sentito uno scalpitare di cavallo sulla strada, e qualcuno che gridava come nella caccia alla volpe. E Ashley ha detto, strano, sembra mister O'Hara quando veniva a trovarci prima della guerra. Dopo un attimo lo abbiamo visto apparire all'estremità del pascolo. Doveva aver saltato la siepe proprio in quel punto, e si è diretto di gran carriera su per l'altura, cantando con quanta voce aveva in corpo. Non sapevo che vostro padre avesse una voce così forte. Cantava una vecchia canzone irlandese, come se fosse l'uomo più contento del mondo, e batteva il cavallo con il cappello. Il cavallo andava velocissimo. Avvicinandosi all'altro limite del pascolo non ha tirato le redini, e noi abbiamo capito che stava per saltare anche quell'altra barriera. Ci siamo alzati spaventatissimi, e in quell'attimo l'abbiamo sentito gridare, guarda Elena, guarda come salto anche questa. Ma il cavallo si è fermato bruscamente senza saltare, e vostro padre è stato sbalzato a terra. Non ha sofferto. Quando l'abbiamo raccolto, era già morto. Doveva essersi rotto il collo. Will attese per un momento che Rossella parlasse. Quando vide che taceva, raccolse le redini. Vai Sherman, disse, e il cavallo si avviò verso casa.